Le giornate dovrebbero iniziare con un bacio, una carezza, un abbraccio e un caffè. La colazione deve essere sempre abbondante. Charles Morrow Schumann Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 25 febbraio. Giovedì, giorno di Europa League. Questa sera Milan-Stella Rossa, ore 21, una partita che avevo voglia di gustare, avevo voglia di vedere, che i giocatori secondo me avevano voglia di disputare, per togliersi ogni miasmo, ogni maleodore degli ultimi risultati. Questa partita deve rappresentare un'aria fresca per tornare a respirare a pieni polmoni. Aria fresca, aria pura, aria pulita. Sta finendo, sta finendo il mese di febbraio, che è stato un mese un po', anzi un po' tanto faticato per il Milan che ha perso la testa della classifica. E dunque questo Milan-Stella Rossa, questo ritorno in Europa, deve servire per ridare tutte quelle qualità che il Milan ha avuto nei mesi scorsi. Sicurezza, fiducia, autostima, determinazione, questo senso meraviglioso di invincibilità che il Milan ha trasmesso anche noi. Si giocava su campi ostici come Benevento, avete visto anche la Roma che fatica ha fatto Benevento, pareggiando 0-0. Il Milan ha giocato a Cagliari, a Bologna, eppure a Sassuolo. C'era proprio questo senso, tanto alla fine vinciamo noi, tanto siamo più bravi. E poi succedeva veramente questo in campo. Adesso Milan ha bisogno di ritrovare quella fiducia, e quella fiducia si ritrova solo giocando bene e vincendo. Quindi certo il passaggio del turno è importante, certo la vittoria è importante, ma proprio ritrovare il gusto, il divertimento, con la speranza che le gambe tornino rotonde, tornino leggere, tornino agile, che la testa si svuoti. Milan, ripeto, ha perso la testa della classifica, ma come ho detto già deve pensare di andarla a riprendere. Quindi serve una bella partita, perché questa è una bella partita, un bel risultato, una bella prestazione, da squadra superiore in Europa contro una squadra di caratura europea. Non è una grande squadra, ho parlato di squadra modesta sul piano tecnico, ma non dobbiamo dimenticare che la Stella Rossa è una delle grandi d'Europa come club e come blasone. Quindi sono squadre sempre per a causa della tradizione, sono squadre sempre difficili da superare, proprio perché c'è la tradizione a giocare queste gare importanti. Il Milan lo sa, non sottovaluta certo, però io voglio proprio questa sera ritrovare il gusto del gioco. Il gusto per dire, ma attenzione, ma il Milan è tornato, basterebbe il Milan del derby. Perché dopo il primo quarto d'ora, veramente difficile e complicato, la squadra è cresciuta, poteva subire i gol, poteva anche realizzarli. Io ve l'ho già detto, ero molto più preoccupato dopo la Spezia. Però questa preoccupazione, questa preoccupazione che nel mio animo sta scemando, deve essere suffragata da una bella prestazione questa sera. E allora che cosa ha studiato Pioli? Non ci sono certezze sulla formazione, ma sembra che il Milan punti su una difesa quasi titolare. Romagnoli, Calabria, Teo Hernandez, Donnarumma e lì Tomori. C'è sempre grande curiosità per gustare questo giocatore che, di tutti i giocatori che sono stati prestati quest'anno, è quello forse che porterà, che vedrà il Milan cercare magari lo sforzo per acquistarlo. A centrocampo. A centrocampo sembra che sì Meite, quindi giocatore di forza, Tonali viene forse tenuto per la partita contro la Roma, ma anche lì però c'è un qualche dubbio Tonali-Meite. Metto Meite ma ho ancora un filino qualche dubbio. Là davanti una formazione che dovrebbe, ripeto, dato che è una formazione un po' a sorpresa, uso ancora il condizionare, vedere Castiglieco sicuro, dovrebbe esserci Krunic là, là davanti Leao. Lascio un piccolo dubbio di qua a sinistra. Tra Cialanoglu, che potrebbe dunque non dare riferimenti agli attaccanti, come anche Krunic, agli attaccanti, scusate, ai difensori della Stella Rosa, in maniera tale da poter svariare, non dare, ripeto, punti di riferimento. Leao non li dà, Cialanoglu non li dà, Castiglieco non li dà, Krunic non li dà. Magari permettendogli inserimenti magari di che sì. E quindi questa è la formazione che sembra, ripeto, lascio un paio di dubbi. Quindi Tonali e Omeite a centrocampo, Rebic o Cialanoglu. Dovesse giocare Rebic con Leao o Cialanoglu con Leao spostato a sinistra. Questi sono i due dubbi. Dubbi importanti perché abbiamo, qualcuno ha invocato qualche cambiamento di, più che di schema, perché vedete che il modulo non cambia, di atteggiamento. Quindi in questo momento serve dare sicurezza alla difesa, sicurezza al centrocampo. Quindi il centrocampo deve essere alimentato non solo sul piano della qualità, ma anche sul piano della quantità. E chiudo parlando di casa e scrivania. Casa e scrivania. Decripto. Casa e casa Milan. Casa e casa Milan. Perché casa Milan è stata acquistata dal fondo Elio, dalla proprietà del Milan. A dimostrazione di serietà di intenti, di strategie precise, di ambizioni, di orgoglio, di voler portare il Milan ai massimi livelli. Certo, intanto, avendo la sede, non paga più due milioni di affitto, ma casa Milan adesso è proprietà del fondo Elliot. Qualcuno dirà, è perché non li spende su un giocatore. Sì, ok, ma la casa è un bene solido, è un bene che accresce ancora di più il valore di questo Milan. E deve accrescere ancora di più la stima nei confronti di questo fondo, tanto criticato all'inizio, così perché era un fondo. E il mondo del calcio, Milan è stato anche qua un antesignano, come sempre è successo in tutta la sua storia, il primo A a far questo, il primo, il primo, il primo a vincere la Coppa dei Campioni, il primo a impostare una società come ha voluto Silvio, un club come ha voluto Silvio Berlusconi, il primo, il primo, il primo. Possiamo stare indietro di classifica, di quattro punti, possiamo non aver vinto per dieci anni il campionato, ma il primo, il primo, il primo, la leggenda è il Milan. Ed è il primo, dunque, questo fondo Elliot è arrivato, adesso tutti ha i fondi, che bello i fondi. Prima erano tante critiche, perché si parlava così, sì ma lo vuole vendere subito, vuole vendere i grandi giocatori. Questo è quello che si diceva, io parlo i fatti. La crescita della qualità della rosa e l'acquisto di casa Milan. E proprio a casa Milan, oggi Gordon Stipic, l'agente di Cialanoglu. Cautottimismo traspare dalla sede, qualcuno dice attenzione perché ci sono delle offerte che potrebbero, che ingolosiscono, sembra che ci siano due offerte importanti, sul tavolo di Cialanoglu, nella borsa di Gordon Stipic. Bisogna vedere se il Milan cercherà di aumentare ancora un'offerta già aumentata del 60%, del 60%, oppure dirà io ho fatto il massimo. E quindi non c'è in questo momento fretta, il Milan non vuole, e forse anche i giocatori, vedi Donnarumma, non vogliono distrarsi, non vogliono avere distrazioni. Ci sono degli agenti che vanno. Io ho sempre, ho parlato, il Milan ha parlato oggi di cautottimismo, dicevo, anch'io ero cautamente ottimista, però mi dicono, non è facile, c'è ancora una bella differenza, qualcuno deve o scendere o l'altro salire, mi auguro che poi ci sia la happy end, il lieto fine, però cautottimismo, ma poi con i prossimi video cercherò di darvi qualche dato in più dopo questa visita di Gordon Stipic a casa Milan. Scusate, a casa Milan? Sì, a nella casa del Milan, che non è solo la casa del Milan, ma oggi è anche di proprietà del Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati e forza lotta vincerai, forza lotta vincerai, forza vecchio cuore rosso nero, stasera si gioca in Europa, a proposito, nella casa del Milan.